Attualmente, MobileSport.ch propone migliaia di articoli per ogni lingua. Per trovare quello che cercate, MobileSport.ch dispone di un ingegnoso sistema di filtraggio. Esempio. Un insegnante di una classe di allievi fra gli 8 e 10 anni è alla ricerca di esercizi sul calcio, adatti sia per i principianti che per gli avanzati. Per prima cosa deve selezionare lo sport Calcio, un'operazione che permette di mostrare tutti i contenuti sul tema, e poi cliccare su Esercizi. Nella colonna sinistra può filtrare ulteriormente i risultati selezionando 8-10 anni nella Categorie di età e Principianti e avanzati nel Livello di capacità. Dopodiché clicca su Applicare. In questo modo, il numero di risultati si riduce considerevolmente. Cliccando poi sull'immagine, sul titolo o sul rimando Leggere l'articolo, appare tutto l'articolo richiesto. È possibile anche restringere in modo molto preciso la ricerca sui contenuti desiderati, cercando in base a termini specifici non compresi in questo sistema di filtraggio. Per scovare velocemente contenuti sulla tecnica di proiezione di Judo o Sotogari, è sufficiente utilizzare la funzione di ricerca. Ma attenzione! Le funzioni di filtraggio mostrate in precedenza, ad esempio Categorie di età o Livello di capacità, così facendo non appariranno. Visionate anche gli altri filmati su mobilesport.ch Filmato 1. Che cos'è mobilesport.ch? E filmato 3. La lista dei preferiti.